I soggetti candidati vengono prenotati dai propri medici di famiglia. Vengono poi invitati attraverso un sms o in alternativa una mail a recarsi presso la struttura del complesso la sal per eseguire il tampone. Il tampone viene eseguito in questi ambulatori dove ci sarà personale medico e personale infermieristico e si farà questo piccolo prelievo prima in bocca orale e poi nelle cavità nasali per poi mettere quello che è stato prelevato, il prelievo microbiologico, in un pozzetto, in un tampone ed in 15 minuti si potrà leggere la risposta che sarà positiva o negativa. Nel caso di risposta positiva sarà necessario ottemperare con un tampone molecolare che sarà diagnostico al 100%. Per quanto riguarda l'organizzazione ci saranno degli infermieri, del personale di accoglienza, ci sarà la protezione civile che invierà sei volontari per poter fare in modo di mantenere il distanziamento sociale e per evitare che si possa creare assembramento. In questo modo ci sarà vicino anche la struttura comunale con i vigili urbani grazie anche alla collaborazione e alla sensibilità del sindaco e di tutta l'amministrazione che ci ha concesso quest'area per poter eseguire questi tamponi. Ci sono in questo momento 630 soggetti prenotati per l'esecuzione di questi tamponi rapidi. La struttura mobile è in grado di erogare fino a 1000 tamponi e in questo modo credo che abbiamo saturato l'orario della mattinata. Siccome l'orario si protrae fino alle 17 come esecuzione di questi tamponi, forse per sabato o per venerdì pomeriggio avremo esaurito tutte le possibilità di poter fare questo primo passaggio e questa prima esecuzione di questi tamponi antigenici rapidi. L'iniziativa nasce per permettere ai cittadini di sottoporsi al tampone più celermente, data la difficoltà logistica che affronta la maggior parte degli studi medici. Gli studi dei medici medicina generale non posseggono nel 98% dei casi la logistica idonea per poter eseguire questi tamponi antigenici rapidi in sicurezza sia per i medici che per gli assistiti, ma soprattutto per un problema di logistica. Pensate che i nostri studi sono in dei condomini, pensate che non possono avere un ingresso e un'uscita protetta, quindi un ingresso pulito e un'uscita sporca di un paziente che teoricamente potrebbe essere positivo. Questa tracciatura dei cittadini facendo questi tamponi antigenici rapidi ci permetterà, ci consentirà di fare diagnosi più precoce e quindi di iniziare più precocemente la terapia, perché noi dobbiamo ricordare che se all'interno degli ospedali covid ci sono dei ricoverati e sono trattati in una maniera molto più intensiva, non dobbiamo dimenticare che a casa seguiamo centinaia e migliaia di pazienti presso il loro domicilio.